Hello world, wake me up to another good good morning time to go Mettersi in gioco significa immaginare di poter contribuire con le proprie forze alla valorizzazione degli spazi della nostra città Il progetto C'è di più dei ragazzi di Via Roma fa esattamente questo portando colore e divertimento nei giardini Margherita Il progetto C'è di più, è un progetto che punta ai giovani ma non solo è un progetto che punta a una comunità educante quindi a tutte le fasce d'età e a far ritornare questo quartiere vivo, attivo e pieno di energia Fruire di spazio all'aperto significa sviluppare un nuovo rapporto con la natura che ci circonda è proprio quello che promuovono i cosmonauti, realtà piacentina consolidata nel mondo dell'agroecologia E ci occupiamo dal 2015 di attività per persone di tutti i tipi all'aperto riguardanti l'agricoltura sociale, l'agroecologia e la vita all'aria aperta in generale Quindi in un angolo del frutteto di Santa Maria di Campania inizieremo a piantumare su vari livelli, piante erbacee, arbustive, alberi ad alto fusto in modo da ricreare un ecosistema che possa autoalimentarsi Gli eventi di questo fantastico gruppo sono ormai un esempio di consolidato successo Mettersi in gioco regala grandi soddisfazioni Grazie a tutti